Ormai sei un personaggio a tutto tondo, attore, cantante, autore, qual è l'aspetto del tuo lavoro che ti piace e ti appassiona di più? A me piace un sacco l'aspetto creativo perché dall'aspetto creativo poi nasce tutto il resto, quindi a me piace un sacco concepire creatività, che siano cinematografiche, che siano musicali, che siano pubblicitarie, in generale a me piace lavorare creando creatività, cercando nuove idee e quindi quello mi piace. C'è qualche progetto creativo per il futuro che puoi svelarci? In realtà no, ce ne sono tanti, sicuramente c'è quello con Fiat, sono messo a scrivere degli spot nuovi molto carini, vedrete tra un po', veramente belli, anzi non carini, veniamocela un po'. E poi c'è tutto l'aspetto gesto grafico che continuerà, non ti posso dire quando, non in che modo, ma continuerà, ci sono delle cose in porto molto grosse, importanti, il lato cinematografico sinceramente in questo momento non ne ho idea, nel senso che ha un mercato fatto di, insomma, tempi molto lunghi, quindi non è una decisione che prendi un giorno con l'altro, ma valuti con calma, quindi tra un po' capirò cosa fare, e ho un po' di cose, ho aperto una videoproduzione e niente. Senti, pochi giorni fa il tuo amico Fede si è diventato papà, hai avuto modo di vedere anche con una videochiamata il piccolo leone? Non ancora, non ancora perché essendo a Los Angeles ci sentiamo di notte, quindi io di notte di solito dormo, quindi ci sentiamo sempre al pelo ma ci siamo sentiti per telefono, sicuramente è un'esperienza incredibile, di colpo lui penso sia cresciuto molto in generale quando hai un figlio cresci, cioè maturi molto e hai un senso di responsabilità nei confronti del figlio, io sono molto contento per lui perché, insomma, deve essere un'esperienza incredibile. Ha chiesto magari di fargli da padrino al battesimo? No, non mi ha chiesto ancora niente, ma non so se gli conviene, non so se sono così affidabile. Perché si dice che poi il bimone prenda dal padrino? No, allora no, allora non gli conviene, se no diventa leone con i baffi.